Cosa dire sull'andamento del settore? Noi siamo dopo due anni sostanzialmente positivi, nel senso che il 2006 è andato bene, il 2007 è iniziato molto bene e ha avuto una decelerazione purtroppo negli ultimi tre mesi dell'anno. Questa decelerazione è stata più marcata, più sentita nella parte a monte della filiera, quindi il tessile, che non è la parte a valle, prodotti finiti, ed è un effetto chiaro e netto legato alle situazioni valutarie. Noi siamo andati bene, intanto che i listini erano dei listini dove per esempio l'euro-dollaro è intorno a 1,30, i listini che sono stati fatti successivamente a euro-dollaro 1,45 non hanno certo aiutato, anzi c'è stata, diciamolo pure, una gelata. Questo discorso è quello che è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, ce n'è un altro che è però altrettanto incidente sotto il profilo delle nostre esportazioni ed è l'euro-yen, euro-yen, quindi parliamo di Giappone, è lo stesso film purtroppo, quindi noi abbiamo gli Stati Uniti dei quali si parla molto anche per ragioni elettorali che ha la situazione che ha e la Giappone pure anche, anche se se ne parla meno, però non va mai dimenticato che la moda italiana, sì, va bene nei nuovi mercati emergenti, cresce a due cifre, però i tre pilastri sono NAFTA, quindi USA, quindi valuta, US dollar, la comunità europea, lì non abbiamo problemi di cambiare perché è l'euro-euro ma non abbiamo poi, vedi la Germania che era il nostro primo mercato di sbocco che non è particolarmente brillante e il Giappone l'abbiamo detto prima. I nuovi mercati, primo fra tutti la Russia, ma anche Cina, ma anche i paesi del centro-est Europa vanno bene, ma non sono per la loro dinamica in grado di compensare delle defiance che ci possano essere sui mercati storici. Quindi siamo in una situazione di grande impegno proprio per cercare di promuovere tutto il promovibile nei nuovi mercati e per tenere le posizioni dei vecchi mercati. Due parole sul monte della filiera, noi abbiamo parlato qui dei cambi che rendono problematico, comunque meno facili le nostre esportazioni. Va aggiunto che invece, soprattutto parlando di dollaro, un dollaro così basso, così competitivo fa molto male a tutta la parte alta della filiera, perché evidentemente importazioni di filati e tessuti sono in crescita proprio perché coloro che desiderano aggredire il nostro mercato italiano ed europeo o i mercati dei nostri clienti sono facilitati in questa operazione. Quindi stiamo un po' scomodi, perché abbiamo un'atenale in cui facciamo più fatica ad esportare e abbiamo invece gente che è facilitata nella loro azione esportativa nei nostri confronti.